E questa settimana tutte le sedi della TGR andranno a caccia di giovani talenti digitali, racconteranno storie di ragazzi che usano il web o le nuove tecnologie per creare soluzioni o prodotti che prima non c'erano, piccole o grandi idee che però aprono tutte sentieri non percorsi prima. Come esempio della campagna TGR ecco la storia di un ragazzo che ha creato un suo business particolare usando i droni. Elena Cestino. Piccolo con i bracci che si sollevano come i carrelli degli aerei così da consentire alla telecamera di girare a 360 gradi. Un drone per pubblicizzare immobili in vendita o catene alberghiere attraverso immagini di alta qualità che raccontino anche il contesto in cui gli edifici sono inseriti. È l'idea con cui quattro anni fa è nata Immodrone, una start-up che ha trovato casa nell'incubatore del Politecnico di Torino ma ha sedi anche a Roma e Milano. Abbiamo una struttura a rete, a network di oltre 350 piloti di droni in tutta Italia. Inviamo il pilota nel luogo di ripresa che seguirà quindi il nostro storyboard per le riprese, ci invierà le riprese, realizziamo il montaggio internamente e abbiamo degli ingegneri cinematografici che se ne occupano. Banche, agenzie immobiliari, hotel, i clienti di Immodrone commissionano i video aerei che poi vengono sponsorizzati sui principali canali digitali. Sono droni per lo più 4K e 6K, quindi dai 4 alle 6 volte più definito del Full HD come risoluzione dell'immagine. I droni sono dotati di sistemi automatici di evitamento ostacoli, sistemi di follow me, quindi sono in grado di addirittura andare a seguire un ciclista piuttosto che un pedone o piuttosto che programmare in automatico un volo. Un pilota controlla il volo del drone, accanto con un telecomando un assistente alla regia gestisce le riprese e i movimenti della telecamera. In caso di avaria o di mancanza di segnale GPS il sistema Sonar permette di stabilizzare il drone che è dotato di paracadute di emergenza anche dalle raffiche di vento. Autonomia dai 20 ai 35 minuti di volo, poi è necessario un cambio di batterie che richiede qualche minuto. Video pubblicitari, ma non solo, le potenzialità dei droni sono ampie e si lavora già a nuove applicazioni. Vedere ciò che non è visibile con l'occhio umano, quindi sono delle telecamere molto molto particolari, le più avanzate tecnologie militari, così da poter studiare eventuali danni, crepe, anche da terremoti e poter prendere delle precauzioni per rendere più sicuri gli edifici. Bene, è tutto per oggi per Leonardo.